Quando il giovane principe di Napoli salì al trono, col nome di Vittorio Emanuele III, era già ben nota la sua passione per la numismatica. Non vi fu dubbio per nessuno che il suo regno sarebbe stato caratterizzato da un rinnovamento della serie monetaria. Ma nessuno poteva immaginare che, nel lungo periodo del suo regno, oltre alle belle monete, ne sarebbero state coniate altre di difficile o addirittura discutibile classificazione. Ma furono proprio queste monete, insieme alla profonda competenza del re, a conferire al periodo di Vittorio Emanuele III un particolare interesse numismatico. In questo video, le valutazioni più alte e riscontrate finora. Le monete che seguiranno, tutte in oro 900 su 1000. 10 lire aratrice, diametro di 19 mm, peso di 3,22 g, al dritto semi busto in uniforme, sulla circonferenza la scritta Vittorio Emanuele III, al rovescio l'Italia aratrice con aratro e spighe di grano. Il valore, in basso l'anno di emissione, regno d'Italia sulla circonferenza. 1910, poco più di 5000 pezzi coniati, classificata R6, mai emessa per la circolazione, senza valutazione. 1912, quasi 6800 pezzi, R3 la classificazione, 9000 euro in fior di conio, 6000 euro a condizione splendida, 3500 euro bellissima, 2000 euro molto bella. 1926 e 1927 coniate solo per numismatici, R4 la classificazione, 1926 40 pezzi, 20.000 euro, 1927 30 pezzi coniati, 28.000 euro in fior di conio. 20 lire, elmetto, diametro di 35,5 mm e peso di 32,25 grammi. Al dritto Vittorio Emanuele III con elmetto di guerra e colletto militare. Al rovescio da sinistra valore, fascio littorio con legature, in alto scritta Italia, oro e prova e in basso la scure con testa di leone e scritta meglio vivere un giorno da leone che 100 da pecora. Moneta campione del 1928, R4, 175 mila euro. 20 lire e fascetto, diametro di 21 mm e peso di 6,45 grammi. Al dritto la testa nuda di Vittorio Emanuele III rivolta a sinistra. Al rovescio valore, fascio littorio, la scritta ottobre 1922, che ricorda il primo anniversario della marcia su Roma delle camicie nere. In basso anno di emissione Zecca. 1923, moneta di prova R3, 15.000 euro in fior di conio. La produzione in 20.000 pezzi, rara, 1.800 euro in fior di conio, 1.100 euro condizione splendida, 750 euro condizione bellissima, 450 euro molto bella. 20 lire aratrice, diametro di 21 mm e peso di 6,45 grammi. Al dritto semi busto in uniforme, al rovescio l'Italia aratrice con aratro e spighe, valore e anno. 1910, più di 32.000 pezzi, mai emessa, R5 senza valutazione. 1912, moneta di prova R4 senza valutazione. La produzione circa 60.000 pezzi, rara, 2.000 euro in fior di conio, 1.300 euro condizione splendida, 1.000 euro bellissima, 800 euro molto bella. 1926 e 1927 solo per numismatici, 30 e 40 pezzi, classificata R4, 40.000 euro la prima, 60.000 euro la seconda. 20 lire, aquila sabauda, diametro di 21 mm e peso di 6,45 grammi. Al dritto, testa rivolta a sinistra di Vittorio Emanuele III, al rovescio Regno d'Italia sulla circonferenza, aquila spiegata coronata, con scudo sabaudo nel petto. 1902, due versioni coniate, entrambe oltre i 100 pezzi, R4, in fior di conio 50-55.000 euro, splendida 35.000 euro, bellissima 25.000 euro, molto bella 12.000 euro. Una versione riporta un ancora al dritto, indica le monete coniate con l'oro estratto dalle miniere della colonia di Eritrea. I pezzi del 1902 costituiscono la prima emissione in oro di Vittorio Emanuele. 1903, 1800 pezzi, R2, 3500 euro in fior di conio, 2500 euro, splendida, 1700 euro, bellissima, 1300 euro, molto bella. 1905, oltre 8.000 pezzi, classificazione rara, 2500 euro fior di conio, 1500 euro SPL, 1100 euro, bellissima, 900 euro, molto bella. 1908, moneta campione R5, senza valutazione. 50 lire in pero, diametro di 20,50 mm e peso di 4,4 grammi. Al dritto, testa nuda di Vittorio Emanuele. Al rovescio, insegna militare, costituita da un'aquila romana, sopra due medaglioni con scudo sabaudo e fascio littorio. Moneta prova del 1936 R4, senza valutazione. La produzione, 800 pezzi circa, R2, 12.000 euro FDC, 8.000 SPL, 5.000 BB, 4.000, molto bella. 50 lire littore, 20,50 al diametro, 4,4 il peso. Prova del 31 R4, senza valutazione. La produzione, in due varianti, consegno romano, nono secolo, comune, 400 euro in Fior di Conio, 350 euro SPL, 250 euro BB, 180, molto bella. Consegno romano, decimo secolo, non comune, 650 euro Fior di Conio, 400 SPL, 300 BB, 200 MB. 1932, 11.000 pezzi, comune, 500 euro Fior di Conio, 380 euro SPL, 280 euro BB, 180 MB. 1933, 6.000 pezzi circa, rara, 750 FDC, 500 SPL, 350 BB, 250 euro, molto bella. 50 lire, cinquantenario, diametro di 28 mm e peso di 16,13 grammi, al dritto Vittorio Emanuele, a rovescio l'Italia, presso il monumento della grande madre Roma, due monete di prova del 1911, entrambe classificate R4, entrambe senza valutazione. La produzione con 20.000 pezzi, rara, 2.000 euro FDC, 1.100 euro SPL, 850 BB, 700 euro, molto bella. 40 lire aratrice, diametro di 28 mm e peso di 16,13 grammi, al dritto il semibusto in uniforme, a rovescio l'Italia aratrice con aratro e spighe, 1910, oltre 2.000 pezzi, mai emessa, R6, senza valutazione, 1912, oltre 11.000 pezzi, rara, 2.500 euro Fior di Conio, 1.600 euro Splendida, 1.200 euro Bellissima e 900 euro Molto Bella, 1926 e 1927 coniate solo per numismatici, classificata R4, 30-40 pezzi prodotti, 35-45.000 euro in Fior di Conio, 100 lire in pero, primo tipo, 23,5 il diametro e 8,8 il peso, al dritto Vittoria Emanuele, a rovescio littore con fascio dittorio sulla spalla, moneta di prova del 36 R4, 30.000 euro, la produzione in 812 pezzi R2, 14.000 euro in Fior di Conio, 8.500 euro SPL, 6.500 bellissima, 4.500 euro Molto Bella, la coniazione di questa moneta esclusivamente su richiesta di privati, 100 lire in pero, secondo tipo, diametro di 20,7 millimetri e peso di 5,19 grammi, stesse raffigurazioni per la moneta del primo tipo, prova del 1937 R5 senza valutazione, la produzione in 250 pezzi circa R3, 45.000 euro Fior di Conio, 30.000 euro SPL, 16.000 euro Bellissima, 1940 mai emessa, R5 senza valutazione. 100 lire Italia su prora, 23,5 millimetri il diametro, 8,8 grammi il peso, Vittoria Emanuele al dritto, a rovescio l'Italia marinara sulla parte anteriore di una nave romana, la moneta prova del 31 R4, 16.000 euro, la produzione in due versioni, con anno romano nono, comune, 600 euro Fior di Conio, 500 SPL, 350 BB, 330 euro Molto Bella, con anno romano decimo, rara, 1000 euro in Fior di Conio, 750 SPL, 500 BB, 400 MB, 1932 e 1933, entrambe classificate rare, 8.000 pezzi circa, 850 euro in Fior di Conio, 600 euro SPL, 450 BB, 340 euro Molto Bella. L'ultima moneta, le 100 lire Vetta d'Italia, 35 millimetri il diametro e 32,25 il peso, al dritto la testa di Vittorio Emanuele su corona di rami di quercia, a rovescio il Fante Vittorioso con bandiera e Vittoriola, prova del 25 R4 senza valutazione, la produzione in 5.000 pezzi rara, 14.000 euro FDC, 6.500 euro SPL, 4.500 BB, 3.500 MB. Ultima moneta, le 100 lire Fascio, 35 millimetri il diametro e 32,25 grammi il peso, testa nuda di Vittorio Emanuele al dritto, a rovescio Fascio Littorio tra lire 100 e ottobre 1922. 1923, prima prova R5, moneta di prova R3 senza valutazione, la produzione in due versioni, una con asse sfalsato R2, l'altra rara, 20.000 pezzi in totale, entrambe 6.000 euro in fior di conio, circa 3.000 euro condizione splendida, 2.000 euro BB, 1.500 euro molto bella. Discutibili o meno, alcune di queste monete sono particolarmente belle e indubbiamente con un grande valore. A me piace molto la 50 lire cinquantenario, con l'Italia presso il monumento della grande madre Roma. Ma voi che cosa ne pensate? Grazie per la visione e al prossimo video! Grazie per la visione!